Ora è 3.55 del 24 maggio 1915. Il primo colpo di cannone venne sparato da Forte Verena. La sorte del dominatore degli altopiani era già segnata. Di certo gli italiani non si aspettavano che gli austriaci portassero i 305 modori a questa età. Qua è un disastro completo. Il dramma di Forte Verena è importante anche per un motivo. Dei primi del luglio 2015 si diede l'avvio al disarmo di tutti i forti italiani. Il dramma di Forte Verena